Buonasera a tutti, sono le 20.25 di giovedì 8 dicembre, non ho ancora fame, quindi prima di andare a cena diamo un'occhiata a Ethereum. Allora, abbiamo avuto sui 45 minuti una bella candela di risalita e se volete possiamo anche andarla a vedere su Bitcoin. Eccola qua, ci ha portato sopra un nuovo T settimanale, da qui. Quindi qui è finito il precedente ciclo settimanale e qui ne è partito un altro. Qui dovremmo ancora capire determinate cose, ma abbiamo già le nostre idee chiare. Torniamo a Ethereum. Su Ethereum possiamo tranquillamente essere al quarto T inverso, quarto ciclo settimanale inverso, che ha fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 candele e che può voler andare a fare un ultimo top andando al massimo, anche soltanto a fare un doppio massimo a 1.311,76 o 1.312 come vorrà o comunque area media mobile, d'accordo, per andare a chiudere il mensile inverso partito da questo massimo, finito su questo minimo e ritornato su questo massimo. È arrivato oltretutto a 34 barre. Da questo massimo, mettiamolo in giallo, il quarto settimanale inverso. Non abbiamo avuto violazioni di swing particolari che ci facciano pensare alla partenza di un nuovo mensile, per cui se non abbiamo swing particolari che ci fanno partire un nuovo mensile, siamo ancora nel precedente. E quindi, come vi dicevo, è possibile che vadano a fare il loro baffo finale prima di andare poi a incocciare con la media mobile a 50 periodi e da lì capiremo che cosa può succedere. Questo perché? Perché l'ipotesi del semestrale già completamente vincolato al ribasso tecnicamente è sempre qui, non è mai cambiata, ok? Più passa il tempo, peraltro, e più vi faccio notare una cosa, d'accordo? Eccoci qua. Qui ci siamo schiantati dopo aver fatto i massimi e da qui ormai siamo andati oltre che cosa? Siamo andati oltre i 168 giorni, siamo a 173, ricontiamoli per sicurezza. Eccoli qua, 173. Quindi ci stiamo avvicinando molto rapidamente a un ciclo annuale. Se questo quindi non è un raccordo tra biennali, tra un annuale e un annuale, eccetera, che forma ha questo ciclo annuale? Fa i massimi all'inizio, poi non li rinnova, poi non li supera di nuovo e continuiamo ad andare giù. Qual è il ciclo che, dalle dispense che avete ricevuto, parte, fa i massimi assoluti subito e poi continua solo a scendere? È un ciclo rialzista, neutro o ribassista? Perché quando ricevete a mia volta quegli appunti che consegno gratuitamente se scrivete alla solita mail info-financialarmor.eu, io pensavo di aver capito tutto dopo un po', e non riuscivo a capire come mai però continuassi a sbagliare determinate analisi, cose, eccetera. Determinate cose che sembrano semplici, possono invece darci tante informazioni su cosa stiamo vedendo davanti ai nostri occhi. Noi siamo riusciti, dopo aver fatto questo massimo, a recuperare buona strada della discesa? Anche in questo caso non è che ci vogliano cose particolari, di nuovo, utilizziamo sempre il nostro amico Fibonacci. Facciamo, anzi, facciamo così. Ma sì, facciamo così, facciamo così, semplice. Qui siamo scesi dal 100% al, su questo primo top, al 78,6. Siamo poi scesi ancora, dopo questo top, al 61,80. Ci siamo stestati per un sacco di tempo, su questo livello qua proprio. Ve ne siete accorti che eravamo sul 38% di risalità dallo zero di Fibonacci? Perché è d'amore che ci siamo, qua, 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 tutta questa parte qua. Per cui, se andiamo a ritoccare, come detto, il massimo, se facciamo questo baffo e finalmente troviamo la condizione oltre quella necessaria e sufficiente per la chiusura del mensile inverso e poi se non penetriamo, se non andiamo ancora su, se non riusciamo ad arrivare almeno alla media mobile a 200 periodi, non facciamo invertire in Golden Cross le nostre due medie mobili e poi si torna a scendere. Baffo e discesa. Perché, come per Bitcoin, io continuo a raccontarlo, se non iniziamo a tornare sopra al massimo a 1677, non vincoliamo l'inverso, non lo vincoliamo a far salire i prezzi di Ethereum. Per cui noi dobbiamo tornare qui, se vogliamo sperare di muoverci verso l'alto, di iniziare a recuperare del tempo su però un annuale, perché ormai abbiamo quasi la certezza che sia un annuale. Abbiamo sviolato lo swing per un t più 4 ma siamo su un qualcosa di più lungo di un t più 4, di un semestrale. Qui possiamo aver chiuso il primo semestrale e qui può essere partito il secondo semestrale già vincolato a ribasso. Non c'è alcuna evidenza nelle regole che ci dica che non sia questa una centratura possibile. Non c'è nessuna. Perché? Perché salendo siamo stati per più di 24 giorni sopra un minimo, abbiamo violato lo swing per un t più 4. Fine. Sì, poi possiamo provare a raccontarcela in tanti modi differenti. Un raccordo però di grado tipo 2 non può stare se non tra due annuali. E qui non abbiamo un annuale, qui abbiamo solo un semestrale. Quindi questo non può essere preso come raccordo, non esiste questo di grado mensile. Qui possiamo avere una chiusura di semestrale con un raccordo eventuale di grado t più 1? Ecco sì, questo sì. Questa è la seconda centratura possibile. E di questa di cui continuiamo a ragionare anche nel premium, con gli amici, con i trader, con chi ama le criptovalute, eccetera, eccetera. Questa è l'unica possibilità. Che semestrale, il primo semestrale si sia chiuso qui. Qui raccordo, qui partenza di nuovo semestrale. Ma abbiamo la violazione di uno swing semestrale? No. È vicino uno swing di un nuovo semestrale? Ecco, la risposta è no. Non è affatto vicino. È parecchio distante dai prezzi a cui siamo. E prima ci sono le medie mobili. Ok. Quindi, per le regole, questa è la centratura più corretta per ora che c'è. Per le forme dei cicli, la centratura è corretta. Per gli swing violati, qui e non violati altrove, per ora è la migliore che c'è. L'aspettativa, quindi, è questa. Chiusura con baffo e rialzo del nostro mensile, primo mensile inverso di questo T più 3 inverso, che anche questo ha tutte le crismi per essere partito. e poi vedremo perché, dopo la salita, purtroppo, si può ritornare a scendere. E la chiave rimane questo massimo, successivamente questo massimo, successivamente questo massimo. Se non ci torniamo sopra, non si va da nessuna parte. Ok. Direi che è tutto. Analisi esaustiva. Sono stato sotto dieci minuti, fantastico, quindi mi faccio i complimenti da solo. Mi sta forse venendo finalmente un ballume di fame e quindi vi auguro una magnifica festa, una magnifica serata e spero che questa analisi sia stata, come di consueto, utile per fare tanti ragionamenti e per fare trading. Se vi è piaciuta, mettete un bel like, iscrivetevi gratuitamente al canale, intanto appunto è gratuito e cliccate sulla campanella per sapere quando uscirà il nuovo video oppure andate su Investing, su Trading, no, Investing, YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitter e anche sul canale di Telegram Ufficiale che è quello che faccio sempre vedere durante l'analisi su Bitcoin. Buona serata ancora! Grazie a tutti!